Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Bocce Forum, buonasera all'amico e presidente dell'Alto Verbano Paolo Basile, ciao Paolo. Ciao Nicolò, buonasera. Partiamo dalla Coppa Italia, c'è stata la Coppa Italia dei Comitati, com'è andata? Bilancio a metà diciamo? Sì, bilancio a metà, avevamo un'ottima squadra quest'anno, però diciamo che dopo diversi anni, diverse competizioni, Varese è riuscita ad arrivare fino al terzo turno, abbiamo perso poi con Ancona il sabato mattina, però direi che tutto sommato, visto anche la competizione, come si svolgeva la modalità, siamo direi soddisfatti, ci riproveremo comunque. Tu tra l'altro che hai avuto il ruolo di commissario tecnico, mi incuriosisce questa cosa, perché è un presidente che diventa anche commissario tecnico, insomma è un bel salto, o è molto simile? No, beh, diciamo che io nasco commissario tecnico, nel senso che è il ruolo che diciamo che più mi si addice, che mi piace, sei presente in campo, vivi con i giocatori, quindi diciamo è quello che più mi sento addosso. Come presidente invece chiaramente sì, c'è più un discorso di gestionale, poi lascio fare ad altri questo compito, però sì, diciamo che il ruolo di Citi è un ruolo che a me piace molto, anche avere il contatto con i giocatori direttamente sul campo. Il discorso gestionale che mi pare tu abbia gestito molto bene, perché se c'è un calcio mercato c'è anche un bocce mercato e mi sembra che l'Alto Verbano sia stato assolutamente protagonista. Sì, diciamo che quest'anno, dopo la promozione diretta che abbiamo fatto dalla Cia alla Serie B, sempre grazie chiaramente al mio ormai socio e fraterno Maximiliano Testa, che è il nostro main sponsor della colata d'oro. Che abbiamo avuto modo anche di conoscere qui. Esattamente, è stato anche l'ospite in trasmissione diverse volte. Diciamo che abbiamo fatto una scelta più improntata a saltare quella che era un passaggio di categoria, perché la Serie B comunque è un campionato molto difficile, dove c'è il rischio di arenarsi per diverse stagioni, anche perché sale direttamente una sola squadra. Quindi c'è stata la possibilità di andare a prendere dei giocatori che ci permettessero magari di fare subito questo salto di qualità e questa promozione alla massima serie. C'è molta differenza dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista sportivo tra la C e la B? Sicuramente sì, perché innanzitutto sono due gironi da otto squadre, divisi nel girone del centro nord e nel centro sud, quindi le distanze cominciano ad allungarsi. Il campionato è chiaramente più lungo, è anche un po' più massacrante dal punto di vista proprio delle trasferte, della logistica, avremo trasferte nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e le squadre comunque a questi livelli sono comunque molto attrezzate, quindi direi che si sale di livello e soprattutto diciamo che il problema principale è che la promozione è una sola, una sola squadra viene promossa nella massima serie. E voi puntate a quel posto in maglia? Sicuramente sì, per quello che gli sforzi quest'anno sono stati improntati quasi tutti sul campionato. Anche perché ormai siete la società di riferimento, naturalmente la provincia, quindi avete i fari puntati addosso, che potrebbe essere un vantaggio ma a volte potrebbe aumentare la pressione. No, per quanto riguarda il territorio di Varese e anche la Lombardia per noi comunque è un vanto perché comunque ci sentiamo varesini barra varesotti, quindi per noi sicuramente è un vanto aver portato comunque nel territorio dei giocatori con un certo blasone, con una certa esperienza, con una certa fama. Però diciamo che oltre a noi ci sono tante altre società in provincia che comunque hanno dei numeri per poter far bene anche dal punto di vista del campo provinciale. Appassionati e non però vogliono sapere i nomi dei nuovi acquisti della squadra. Ma i nomi diciamo che gli appassionati delle bocce li sanno già anche perché ogni volta che incontro qualcuno mi chiedono se è vero, chiedono conferme dei nomi. Però sì, allora il primo acquisto che è stato fatto subito al termine del campionato è Gaetano Miloro, che è un ragazzo che quest'anno giocava a Pesaro, è un ragazzo che ho avuto modo di avere, quando facevo il commissario tecnico a Rimini l'avevo in formazione, è un ragazzo comunque molto completo che si adatta a diversi ruoli ed è un ragazzo che è già entrato nel giro della nazionale diverse volte, è un ragazzo che si può adattare su varie superfici soprattutto quando andremo a giocare nelle Marche e anche nel Lazio ci può dare il suo contributo. Eravamo già a posto così, poi parlando con Max abbiamo deciso di, c'è stata la possibilità di andare a prendere un giocatore che per noi era fuori veramente da ogni budget, da ogni parametro, però c'è stata la possibilità di portarlo a casa tra virgolette e Giuseppe D'Alterio che è diciamo che è il nostro top player, nel senso che è uno dei cinque giocatori in Italia, campione del mondo, campione europeo, presenza costanza nel giro della nazionale e questo sicuramente è il giocatore che noi speriamo ci possa far fare il salto di qualità. Come funzionano le logiche del mercato delle bocce? Sono un po' come il calcio, caotiche o è un po' più tranquillo, insomma quando si va sull'obiettivo si riesce a raggiungerlo? O c'è tanta concorrenza anche lì? Ma c'è concorrenza da parte di società chiaramente che sicuramente in Serie A ambiscono a fare delle squadre per puntare al titolo. Pesano tanti fattori logistici perché non dimentichiamo che per esempio Giuseppe D'Alterio, lui abita a Treviso e Gaetano Miloro abita a Pesaro, quindi diciamo che questi ragazzi si spostano, bisogna soddisfare la domanda e l'offerta. Su Giuseppe siamo stati bravi io e Max nell'aver capito che lui aveva comunque finito un ciclo a Treviso, era lì già da diversi anni, hanno perso un altro big che è Mirko Savoretti che è andato invece nella formazione dell'Aquila, quindi noi siamo stati così bravi a buttarci a capofitto, a dargli magari dei nuovi stimoli, a venire in una società comunque giovane, è una società che comunque ha delle grosse ambizioni e siamo riusciti in poco a portarlo a casa. Non solo campionato e Coppa Italia, c'è anche una gara nazionale o sbaglio? Sì, il campionato inizierà ai primi di novembre e invece questa gara nazionale appunto che l'Alto Verbano ha organizzato chiaramente sempre con il nostro sponsor Colata d'Oro era prevista anche questa per i primi di novembre, però è andata in concomitanza con il nostro primo turno di campionato e quindi è stato deciso di spostarla ai primi di dicembre, quindi avremo il sabato in casa l'incontro di campionato e la domenica la gara nazionale a Coppio dove lì penso che avremo le migliori coppie sul territorio italiano saranno presenti a Varese proprio per l'importanza della gara in concomitanza anche con il campionato stesso del giorno prima. Dal punto di vista del seguito del pubblico c'è tanta gente che vi segue, soprattutto magari dopo la stagione, l'esploit della scorsa stagione c'è ancora di più, ti aspetti qualcosa di più? Sì, devo dire che a San Cassano che è il nostro, dove si svolgono gli incontri in casa abbiamo veramente trovato un clima amichevole dove ci sono tantissimi appassionati che ci vengono a vedere, che ci vengono a sostenere. Penso che anche per il fatto come ci siamo posti io, Max, ma la società stessa e i giocatori stessi abbiamo trovato il consenso di tante persone, di tanti amici bocciofili dove chiaramente hanno la possibilità di vedere dei grossi giocatori. Chiaro che l'invidia poi c'è in ogni campo e in ogni settore, però devo dire che abbiamo anche delle società molto vicini come Mannate e anche diciamo quelle della zona dell'Uinese che comunque ci sono molto vicini anche dal punto di vista affettivo e dall'amicizia, quindi siamo molto contenti. Penso che quest'anno raddoppieranno le presenze, non so dove le metteranno, però... E vi toccherà allargare poi, eh? Penso proprio di sì. Obiettivo immediato la promozione, lo abbiamo detto, senza discussioni, c'è però un obiettivo futuro, magari un sogno che vorresti realizzare con l'alto verbano? Tocchiamo ferro intanto. Sì, tocchiamo ferro, però è chiaro che per me da quando sono nato, diciamo, boccisticamente in questo sport d'elite, io ho iniziato con i campionati, quindi per me il futuro delle bocce, senza niente togliere, diciamo, l'attività minore, però per me il futuro delle bocce va in quella direzione. Se io penso che adesso ci sono formazioni come Treviso e Aquila che andranno a fare la Coppa dei Campioni in Brasile, piuttosto che i mondiali per club in Argentina, ecco, diciamo che quelli sono i nostri obiettivi, quindi andare in A, magari fare un po' di esperienze in A, cercare di migliorarci, per poi andare a fare queste competizioni che poi ti mettono proprio anche la ribalta nazionale e internazionale. Speriamo di potervi seguire anche lì, Brasile Argentina, così mi faccio anche una vacanza. Poi abbiniamo il nostro calcio con le bocce. Esatto, grazie mille Paolo, prima di lasciate andare una notizia, domenica ricordo che c'era la finale del campionato provinciale a squadre, a Giubiano tra Renese e Bottinelli di Vergiate, mentre a San Cassano si giocherà tra Malnatese e Casciago, le vincenti disputeranno la finalissima nel bocciodromo di Malnate, nel pomeriggio sempre di domenica. Grazie Paolo per essere stato con noi, ci vediamo prossimamente con buone notizie. Grazie a te Nicolò, dello spazio che ci avete dato sempre. Grazie mille, buona serata in nostra compagnia, ricordo l'appuntamento con Bocce Forum il venerdì dopo la seconda edizione del telegiornale, saremo sempre qui in studio, in replica alle 20 su Rete55 Sport, ogni sabato. Buona serata in nostra compagnia. Grazie a tutti.